ciao a tutti colors benvenuti in questo nuovo video una piccola introduzione giusto per farvi capire come sia nata l'idea ho notato che questa meraviglia che state per vedere che è la figlia della mia cagnolina frega ogni volta che è particolarmente contenta io dico che miagola vogliamo essere precisi e dire che magari fa un suono simile a me sembra un miagolio vero e proprio è stato molto difficile prenderla perché è l'unico momento in cui la fa quindi ho chiesto a qualcuno di riprendermi provocando una situazione di cui lei è particolarmente contenta cioè quando siamo alla stessa altezza qualcuno è meno contento adesso però non mi vuole tagliare questa parte buona visione ci vediamo al prossimo video ciao no il tavolo giù giù condividi anche tu se il video ti ha fatto emozionare sorridere piangere perché no e spero che di fronte all'innocenza essere da parte commenti negativi siccome io posso ringraziare portilya a